Il girasole di cui qua oggi abbiamo la felice presenza di Ronipote nell'organizzare qui e a Napoli dice facciamo scambio tu mi dai due le resevra sopra camminiere e questo lo spostiamo di qua, organizzò le cose in questo modo geniale. Lo vado a salutare. Il Ronipote è il nonno, quindi è il nipote, andiamo.